Nessuna generazione può sfuggire alle mie grinfie critiche, e neanche la quarta generazione. Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea Doraz, o semplicemente Doraz, e benvenuti in questo nuovo video. Sigla! Oh, benvenuti o bentornati sul mio canale, vi lascio qui sotto tutti i link dove seguirmi che trovate in descrizione, tutti i social, Facebook, Instagram, YouTube, insomma ci sono tutti in descrizione, andate lì e seguitemi. Quindi, importantissimo, iscrivetevi al canale e mettete like al video se ancora non l'avete fatto, questa è la cosa più importante, vi verrà altri, se volete, se volete farmi contento, ma questa è la cosa più importante. Oggi siamo qui per il nostro quarto appuntamento, per il nostro quarto episodio di questa serie che sto portando avanti noi da qualche mese, ovvero la top dei 5 Pokémon più brutti di ogni generazione Pokémon. E oggi, se siamo arrivati al quarto episodio, siamo ovviamente alla quarta generazione, una delle generazioni che più ho giocato insieme alla terza, e che secondo me presenta veramente dei grandi cavolavori estetici come Garchomp, Weevil, anche i leggendari bellissimi di Alga, Valkia, Giratina, Giratina, come si chiama? Giratina, Darkrai, insomma, ci sono veramente tantissimi, veramente chi più ne ha più ne metta, insomma, veramente una bellissima generazione in termini di mostriciattoli a livello visivo, perché oggi parleremo come sempre solo a livello visivo, ok? E qui sopra vi lascio l'episodio precedente, quindi la terza generazione, se ve la foste terza, e alla fine del video troverete la terza generazione e la successiva, che ovviamente ancora non l'ho girata adesso, però poi ci sarà, insomma, se tornate alla terza, dalla terza trovate la seconda e la prima, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, oggi parliamo dei cinque Pokémon più brutti della regione di Sinnoh, e quindi la quarta generazione, Diamante, Perla, Platino, eccetera. Cominciamo subito con la posizione numero cinque. Eh sì, perché, come dicevo all'inizio, anche la quarta generazione ha cinque Pokémon orribili. Peraltro qui non ho deciso su alcuni, però alla fine poi mi sono deciso, insomma. Quindi posizione numero cinque per Probopass, l'evoluzione di Nozpass, che non era così brutto sul nome Nozpass, e invece Probopass entra di diritto nella classifica dei cinque Pokémon più brutti della quarta generazione, perché è veramente brutto. È un'evoluzione, appunto, di Nozpass solo più grande e con queste specie di baffi, sembra proprio una maschera, con le classiche occhialini con il naso e con i baffi, proprio quello. L'unica cosa è che è al quinto posto, perché se voi lo vedete in movimento, per esempio il Pokémon Go, se lo toccate, lui fa il suo verso e ha queste specie di calamite attaccate che girano vorticosamente, ed è fighissimo l'effetto che fa. Però, oltre a quello, insomma, è una specie di totem un po' brutto, una roccia, non è che mi fa impazzire. Però l'ho messo al quinto posto perché è meno brutto di altri, almeno questa cosa che gira è figa. Peraltro vi ricordo sempre, questo è il mio gusto, magari qualcuno ha come un preferito Probopass, e va benissimo. Però questo è il mio gusto e quindi per me il Probopass si merita il quinto posto. Quindi andiamo al quarto posto. Quarto posto, a un passo da ricevere almeno una medaglia, perché questi poveracci, so, è vero che il quinto e il quarto sono meno brutti, però comunque non vincono neanche una medaglia. Comunque, al quarto posto, Bibarel, olè, seconda evoluzione di Bidoof, che anche è bruttino, ma almeno è graziosetto. Invece Bibarel è proprio inguardabile, veramente brutto. Questo castoro, è un castoro, tipo un castoro, basta, sta lì, è un castoro disegnato da un bambino, e quindi ecco fuori Bibarel. Non è che ci vorrei soffermare troppo su questi Pokémon, perché sono quei Pokémon veramente che si trovavano dappertutto, quasi te li fanno odiare, e che sono anche scarsi, sono inutili. Insomma, uno dei più classici Pokémon che è brutto, ma soprattutto perché è così, è disegnato, è un animaletto, sta lì, ma veramente non ha nulla. Con questi occhi così spalancati, veramente imbarazzante. Il povero Bibarel, il cui peraltro nome, se non sbaglio, giapponese è Beroberto, che è bruttissimo, quasi quanto il Pokémon stesso. E quindi, quarto posto, meritatissimo per Bibarel. Ora andiamo al terzo posto, quindi prima medaglia, andiamo a consegnare la medaglia di bronzo A. C'era la sua prima evoluzione, ma non voglio spoilerare, nella prima generazione. E abbiamo qui la seconda evoluzione, e quindi uno spoiler. Medaglia di bronzo per Tangroot. Tangroot è questo Tangela troppo cresciuto, con i capelli troppo lunghi, con queste zampette sotto bruttissime, con queste mani così. Sembra quasi uno dei reggi, però che è stato acchiappato, diciamo, inondato di tutti i Tangela, e è venuto fuori Tangroot. Veramente orribile, non so a che cosa si è ispirato, non so perché l'abbiamo voluto fare, se forse per dare un po' più di mordenti a Tangela, ma insomma, preferivamo che rimanesse un unico Pokémon brutto. E non che seguisse una linea evolutiva ancora più brutta. Tangroot merita assolutamente la medaglia di bronzo, e quindi niente, insomma, che dire ragazzi, sta qua. L'immagine dice tutto, insomma, eccolo qua sopra. Guardate, guardatelo bene un pochettino, vi lascio due secondi per guardarlo bene. Siete d'accordo con me? Andiamo al secondo posto, diamo la medaglia d'argento. Medaglia d'argento per... Ah, questa è tosta. Questa è tosta, sapete perché? Perché? Perché quando un Pokémon è brutto, vabbè, l'hai fatto brutto, che devi fare? Ti dice che errare è umano. Perseverare è diabolico. Perché? Gastrodon, il secondo posto, ha addirittura due versioni. E come se non bastasse, sono tutte e due brutte. Quindi loro hanno detto, facciamo un Pokémon brutto. Bene, facciamo che ce ne sta uno del mare del nord, uno del mare del sud. Per fortuna si sono formati a due. Veramente inguardabile. Gastrodon in tutte le sue forme è inguardabile. Forse uno è meno brutto dell'altro, ma con questa faccia, questo corpo. Tempano tipo dei Lapras, che non ci hanno creduto, non hanno sviluppato le pinne, non sono diventati belli come Lapras, e sono rimasti questi vermoni, lumaconi, quello che è, inguardabili. Peraltro anche il verso... È orribile. Quindi, Gastrodon, venite qui tutti e due, medaglia d'argento per uno, medaglia d'argento per due, perché veramente non si può vedere questo Pokémon. È inguardabile, forse è uno dei più brutti. Forse, però, è forte. Non mi vorrei sbilanciare in merito, perché non ho mai avuto in squadra. Io da bambino andavo molto, sì, forza, ma anche a bellezza. Quindi Gastrodon non mi sarei mai permesso di metterlo nella mia squadra, però credo che non sia scarsissimo questo, eh. Ma, tralasciando questo, è orribile, quindi a noi questo interessa, che fosse orribile prestare in questa classifica. Medaglia d'argento. Andiamo al primo posto. Attenzione, perché qui proprio facciamo lo sfumante. Medaglia d'oro per... Per campanone. Bronzo. Versione sfegatissima di questi Pokémon, mezzi totem, mezzi insi sa che so, tipo Claydol, per farvi capire. Bronzo, è anche veramente orribile. Ha questa campana enorme volante, che fa pure il verso che sembra una campana. Ha questa faccia, con questi occhi tondi, con questi dentini. È una cosa inguardabile. Io questi Pokémon qui veramente capisco che esistano e che ci siano in un gioco, eh. Lo capisco, però, però ragazzi, cioè veramente, ma come si fa? Ma come si fa a disegnare questi Pokémon così brutti? Sono veramente imbarazzanti. Sono veramente inutili. Io ripeto, questi Pokémon qua non li concepisco, però ci sta che ci siano. e probabilmente a qualcuno gli piace pure avere il Bronzo, perché magari è pure forte, però non ce la posso fare. Una campana volante con le braccia e con la faccia da cazzo che non lo sopporto. E quindi diamo la medaglia d'oro al povero Bronzo, che però lo sarà felice, perché lei non lo sa, perché è brutto. Quindi, medaglia di oro, di oro. E quindi, eccoci qua, abbiamo finito con questa classifica. Spero che il video vi sia piaciuto. farmi sapere voi quali sono i vostri 5 Pokémon più brutti della regione di Sinno. E sono curiosissimo. Scrivete sotto nei commenti. E noi ci vediamo alla prossima. Grazie veramente a tutti, perché sono felicissimo che questa serie di video che sto facendo lo sta andando benissimo. Sono contentissimo. Grazie mille per tutti quelli che avete visto la prima, la seconda, anche la terza. Veramente grazie a tutti. E ci vediamo presto con tanti altri video. e soprattutto ci vediamo poi con la quinta generazione. Prepariamo i Popcorn, prepariamo tutto, perché ci sarà da divertire tra la quinta, sesta, settima. Madonna! Alla prossima! Ciao a tutti!